Siamo qui a Francoforte al Music Mess per presentare le grandi novità KORG. Ho il piacere di presentarvi in questo momento la MicroStation, una nuova novità di casa KORG. MicroStation è un sintetizzatore, 61 tasti, ha la grande caratteristica di avere il micro tasto presente nel KORG amatoriali, MicroCore XL prima di tutti. Come motore sonoro monta un EDS integrated, quello con le features presenti sia in M50 che in M3. ha la possibilità di utilizzare sia le combi che i programmi presenti in questi strumenti e goderne di tutti i vantaggi come fosse una tastiera professionale. Il PS60 è l'altra novità KORG, è un sintetizzatore a 61 tasti, semi pesati, ha la grande caratteristica di essere estremamente versatile ed intuitiva. Anche in questa versione KORG ha sviluppato la EDS, l'Adamance Definition Synthetizer Integrated, che permette di avere tutti i suoni di casa KORG nella massima definizione. È uno strumento semplice, d'utile ed estremamente leggero, sia per l'utente che inizia, sia per l'utente professionista.